Politecnico in Milano è una delle università tecniche migliori del mondo. Il clustro di Lombardia è il primo in Europa per la performance di ente smart, small e medium enterprises. È anche il secondo per il numero di emploi. Circa 1.000 produttori automotivi sono attivi in Lombardia, e Politecnico di Milano è ofteno un partner di innovazione che supporta loro. L'adoptione di un simulatore di conduzione permette al Politecnico di Milano di co-operare effettivamente con queste compagnie, che, grazie al simulatore di conduzione, possono dimostrare il livello competitivo dei prodotti. Per tutte queste cose, il governo della regione Lombardia, sotto l'advice del clustro di Lombardia, ha deciso di stabilire un accordo con Politecnico di Milano che parzialmente finanziare l'installazione di questo simulatore di conduzione. Crediamo che il simulatore di conduzione potrebbe aumentare il risultato del politecnico in un numero di elementi diversi. L'ultimo, ma non l'ultimo, potrebbe aiutare di migliorare la qualità di tutti i professori e i studenti. Inoltre con il professor Kehle, gestiamo i corsi per l'automotività. Per noi, il simulatore di conduzione potrebbe essere un'applicazione importante per educare i migliori automotivi e l'ingegneri di mobilità. Inoltre con l'automotività Abbiamo lavorato sia un processo di merito e un processo di formazione per identificare i migliori simulatori di conduzione che sono disponibili sul mercato. Il processo di merito è focalizzato sulle tecnologie precedenti basate su macchine veloce e le macchine latenti. Queste qualità sono molto cruciali per simulare problemi di sicurezza e stabilità. Molte volte, questi problemi sono molto importanti per fare simulazioni accurate. Abbiamo deciso di accettare il risultato di essere i primi adottori di questo simulatore perché abbiamo messo un accordo per aiutare la potenza di skill e di potenza per sviluppare la tecnologie in cooperazione con VI Great. Ovviamente, l'educazione è il principale di sviluppare l'Università e l'utilizzo di un simulatore potrà essere iniziato inovativamente le processi di aprendizia per i nostri studenti. Ci saranno non solo a modellare ma anche a direttamente a comprare le soluzioni tecniche in sicurezza. Inoltre, il simulatore potrà essere effettivamente lavorato sui studi fondamentali pubblici e privati fondamentali fondamentali e come l'assessibilità di nuovi dispositivi per le caratteristiche e connessioni conoscenze nuove conoscenze riconoscenze e, l'ultimo, il motosport conoscenze 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 il nostro simulatore potrà essere disponibile per gli studenti automotivi globale anche inoltre, ci saranno conoscenze istituzionale con i gruppi governamentali per regolazione e sviluppare a livello nazionale o internazionale conoscenze conoscenze tecnologie il DIN-400 ha un'esperienza più immergente e da inoltre attiva la tecnologie internazionale conoscenze di servizio migliori Fidelity. Per esempio, il manovere di cambiamento di lane riproduce il comportamento attuale con extrema cura. La tecnologia di cibo permette di una migliora explotazione della superficie di braccia, su cui il coppito gliava sulle varie. Recentemente, un panel di esperienze di Politecnico di Milano testarono sia i simulatori di attuator-based simulatori di I-GRADE e DIM-400, e potrebbero riconoscere che un passo significante tecnologica ha fatto.